stiamo ancora qui perché un altro solo piccolo pezzettino di lezione per la mandibola così faccio una playlist per questa lezione si può fare da seduti si può fare in piedi si può fare da distesi quindi molto molto semplice apriamo e chiudiamo la mandibola gambe a larghezza almeno delle spalle comodo senti bene il peso sul piedi ok adesso errico appena fatto una lezione che la terza vediamo se possiamo aprirla ancora di più ancora meglio quindi già la sentirà leggera voi osservate come la sentite nell'aprirla e nel chiuderla ok e magari andate anche con la mandibola verso destra e verso sinistra quindi aprite la bocca e la mandate verso destra e verso sinistra e sentite come si muove fatelo sia con la bocca aperta che con la bocca chiusa ok e adesso proviamo a vedere cosa succede mettiamo le mani incrociate dietro la testa ok e apriamo e chiudiamo la mandibola e vediamo cosa vuole fare la testa quando noi apriamo e chiudiamo la mandibola la testa vuole muoversi o sta ferma proviamo andare anche con la mandibola a destra e a sinistra bocca aperta e bocca chiusa ok riposa ti ricordi come era facendo questa cosa qua ok e avevi respirato riproviamo un attimo e vediamo se respiri vai rimettiamo le mani dietro apriamo e chiudiamo molto più lentamente e vediamo se respiriamo e quando ci conviene ispirare e quando respirare anche a destra e sinistra e osserva se stai respirando e cosa succede alle cervicali alle spalle a tutto quello che è con te ok riposa pure è meglio respirando e quindi prima non respiravi mucio allora ricordatelo anche voi quando fate qualcosa di nuovo siete talmente concentrati nel fare questa cosa nuova che magari vi dimenticate di respirare quindi andate più piano riposate fate pause ma sempre connettetevi con il respiro ok adesso facciamo una cosa interessantissima mettiamo le dita l'indice e il pollice giusto in bocca e come se volessimo morderlo nel centro dei denti e lo mordiamo con la parte sopra ok con il pollice facciamo come un gancio sotto il mento ok teniamo la testa così tranquilla e proviamo con questa mano a spostare la testa la testa a destra a sinistra ma sono le due dita che spostano la testa a destra a sinistra non la testa che si sposta ok proviamo e ricordandoci di respirare non apnea osserviamo cosa fanno gli occhi e quanta tensione abbiamo nelle spalle nel torace cerchiamo di mollare tutto mentre facciamo questa cosa magari lo facciamo piccolissimo è proprio la mano che sposta la testa e quindi stiamo lavorando anche adesso sulla mandibola ok ferma un attimo riposa mette molta tensione fare questa cosa qua ok quindi riproviamo cercando proprio di connetterci con il respiro ma questa volta non muoviamo la testa la testa rimane immobile e muoviamo solo la mandibola ok solo la bocca sempre verso destra verso sinistra cerca di mantenere più ferma la testa si muove solo la mandibola ora prova a mandare gli occhi in direzione opposta del movimento della mandibola con gli occhi chiusi senti se respiri ok rimanda la mandibola in direzione degli occhi ok riposa senti che sensazioni hai sulla mandibola ti può fare anche a letto naturalmente molto più comodo ok e adesso rimettiamo le mani dietro la testa e proviamo aprire chiudere la bocca e vedere se la testa si sente di più il movimento della testa quando facciamo questo movimento della e quindi la testa è molto più importante succede qualcosa alla testa si muove perfetto mandala anche adesso a sinistra la mandibola e senti questa piccola rotazione sotto le mani dietro della testa ok riposa un attimo wow prova aprire chiudere la bocca e vedi se questo movimento fa qualcosa ora che ha sbloccato un po questa parte delle spalle che facendo palestra molte persone tendono e senti come la mandibola è incredibilmente connessa con le spalle con la cervicale con lo sterno con le clavicole tutto un po si muove no quando lo facciamo ok un ultimo proprio passaggio veloce cambia l'incrocio delle mani ma non importa facciamo così te la faccio un'altra lezione vedi se vuoi se no chi fa felde in questo può cambiare l'incrocio delle mani le mani sempre dietro e questa volta andiamo con la parte sotto della mandibola in avanti e la riportiamo indietro bocca chiusa bocca aperta sperimentate tutte e due ogni volta richiudiamo la bocca la apriamo e portiamo fuori la mandibola riposiamo sentiamo se le nostre spalle il nostro respiro comincia a essere potenziato wow ok ultimo passaggio mani di nuovo dietro la nuca portiamo avanti la mandibola e dalla posizione in avanti della mandibola la portiamo a destra a sinistra ci ricordiamo di respirare ok riposiamo scusate non era proprio l'ultimo ce n'è ancora uno ok questo è veramente l'ultimo ok ma chi ha letto fa molta meno fatica mette le mani dietro sta là bello disteso magari con le ginocchia piegate i piedi sul pavimento se lo fa coccolone e al terzo movimento bello addormentato no perché rilassando la mandibola si rilassa tutto il viso si rilassano le spalle il torace e via dicendo e dopo si dorme quindi ultimo passaggio mani incrociate dietro la testa apriamo la bocca portiamo in avanti la mandibola e facciamo il nostro cerchio in un senso e nell'altro possiamo farlo con gli occhi chiusi con gli occhi aperti respirando bocca più aperta meno aperta e sentendo tutto quello che viene mosso da questo movimento della mandibola e sentendo soprattutto il respiro ok basta porta giù le mani hai cambiato anche senso ok sentiamo come stiamo ok magari anche da riposati ci metti pure comodo no tu stai comodo così ok lui è comodo con i piedi uniti e legami così perfetto e da questa posizione immagina che ti fanno le solite fotografie di natale con tutta la famiglia e vedi che tipo di sorriso ti viene ora con quelli che brillano i denti e naturalmente sentite il viso com'è essere rilassato com'è il vostro respiro e poi fate la prova aprite chiudete la bocca e sentite se ora anche senza le mani dietro potete percepire che la vostra testa il vostro collo la sottorace partecipa tutto è com'è connesso e sia che aprite o andiate con la mandibola a destra sinistra o fate i cerchi la testa è con voi magari mentre fate i cerchi la testa vuole muovere l'abbiamo bloccata perché perché potesse dopo volare libera e quindi quando voi fate i vostri cerchi con la mandibola sentite che la testa vuole ruotare con voi vuole esserci che gli occhi ci sono che tutto il collo le cervicali tutto è con voi e quindi quando voi parlate a o cantate o sorridete siete non avete una bocca una mandibola rigida ma l'avete connessa con tutto voi stessi ok bello non è la sensazione anche se l'apri tanto senti che gli occhi vanno verso il cielo quasi oppure stanno in avanti ma si aprono di più e voi avete un sorriso smagliante per le feste per fare le foto un abbraccio a tutti buone buonissime feste e questo è il nostro ultimo video natale è già passato buon anno nuovo ok ciao ciao